Ok, ho capito, dice Teranz. Oggi, in inglese, in inglese, allora stavo pensando, stavo chiedendo alla mia assiria, alla mia decina, come prendermi cura, che abbiamo la corretta intenzione. E dopo un po', ho guardato l'orologio e ho visto che stavo pensando solo da due minuti. Ho pensato che ci stavo pensando da ore. Sembrava che era una maratona. Sì, corretto, dice Rav. Non ho capito la domanda, scusate. Questo è buono, due minuti, dice Rav. Pensare a qualcosa per due minuti, che non ho quasi nessuna relazione. Proprio due minuti. Pensare agli amici è un segno che io sono proprio legato a loro, nella misura di due minuti. Questo è molto... Te lo dico, dice Rav. Sono con tutta la serietà. Prova a pensare a qualcos'altro dopo qualche secondo. Tutto qui. La tua attenzione... La tua attenzione vola, scappa. Scappa. Vola via. Non la puoi sostenere, non la puoi trattenere, perché tu non hai mancanza, non hai desiderio, non hai volontà, relazione. Non ti manca, non ne senti la mancanza. Non puoi connetterti a qualcosa di cui non ti prendi cura. Se è solo buono o cattivo per te. Quindi due minuti a pensieri è grande proprio. Te lo dico seriamente. È grande. Chiedi a Moti. Neanche dieci secondi può pensare a lui. Neanche dieci minuti, no? Terence, continua. Quando noi abbiamo grossi problemi, grandi problemi in noi, tu puoi pensare per ore. Tu proprio dormi, ti risvegli. Certo, perché è un grande problema. E allora devo pregare il creatore qui di darmi la mancanza di pensare agli amici che io... Cioè, che io non è che mi curo per me stesso, non per quello, ma io proprio prendo cura di loro e come io posso integrarmi con loro. E' possibile? Neanche per il mio bene voglio connettermi a loro. È qualcosa completamente proprio opposto a me. Loro vivono fuori, sono lì come ombre che esistono, ma legarli a me, relazionarli a me, anche nel caso peggiore, proprio io non penso a loro che possono aiutarmi. Cioè, non sono nel mio desiderio di ricevere proprio legati a me, relazionati a me. E quando tu dici che invece per due minuti riesci a pensare all'ambiente, uff, questo non è semplice. Non è semplice, te lo dico seriamente. Molto seriamente, anche se io mi sento male, io non li vedo proprio relazionati a me. Non li vedo, cioè, che magari, neanche se penso che proprio vale la pena pensare a loro, io scappo, non mi tocca. Non mi raggiunge questa cosa. Così. E che cosa noi, di che cosa abbiamo bisogno? L'opposto. Io ho bisogno sempre di pensare come posso beneficiare loro, aiutare loro. Oltre questa sensazione cattiva che io ho, li penso, anzi, anche di più. Io faccio proprio uno zizumo, una restrizione su questo e sopra questo, solo in questo, io posso volgere questi vasi verso me. Cioè, io vado oltre questa frammentazione e li connetto all'anima di Adam Rishon, capisci? Quando io guardo la società e penso che cosa posso fare con questo, io proprio mi cadono le braccia, proprio non puoi immaginare come io farò questo.